Musica Tutto inizia da qui, da questo batuffolo di cotone, da lì che parte la storia del jeans. Andiamo a pulire dai semi, andiamo a pulire dalle foglie e diventa questo nastro. Quindi da questo si ottiene poi questo filo. Questo filo, che è un filo di varie titoli. Sì, otteniamo questo tessuto intrecciando questi filamenti, li coloriamo ovviamente. Dopodiché bisogna scegliere il look, quindi si passa... Il piazzamento dei modelli per cercare di consumare il meno possibile. Un buon piazzamento e soprattutto lo sviluppo delle taglie. Qui c'è la confezione. Questo è proprio il jeans originale, terminato, pulito. Dopodiché viene fatta altra nobilitazione, se vogliamo, dell'invecchiamento, di tutte queste cose qua. Grazie.